Penso che Italia-Germania sarà una semifinale molto equilibrata e combattuta. La Germania ha un gioco che mi piace, una squadra completa in tutti i suoi reparti. L'Italia ha fatto una grande partita contro l'Inghilterra e ha talenti come Cassano, Pirlo e lo stesso Balotelli. Sarà una bella partita e speriamo di poter giocare con la migliore delle due nella finalissima. Io non mi confronto con Messi anche se sto giocando in una posizione simile in nazionale. Confrontarmi con lui sarebbe una fesseria. Io faccio quello che mi chiede del Bosque, non faccio il Messi della Spagna. Perché la Spagna non è il Barcellona e soprattutto Fabregas non è Messi. Messi è un giocatore assolutamente diverso da me. Stiamo parlando del più grande giocatore della storia del calcio. Quindi nessun confronto, io aiuto la squadra, faccio quello che mi chiede il mister. Mi piace, sono più libero, mi piace giocare lì, niente di più però. Perché se Leo sta qua, io sono qua. Allora, futbolisticamente me sto incontrando bene, è una posizione che mi piace, ho libertà, posso arrivare all'arriva e niente di più. Però di questo a compararlo con Messi, io credo che se tu ti lo ha planteato debes aver sido l'unico. No, no, no me has entenduto, da igual. No, Leo e Messi se fa bene, una cosa qui e l'altra allì. E io credo che è più difficile. E io credo che è più difficile.